Gela, Niscemi e Piazza Merina sono tre grandi centri popolosi, importanti per l'industria, per l'agricoltura, per il turismo. Apportano con il loro ingresso ben 127.000 abitanti alla città metropolitana di Catania, diventando la sesta area metropolitana d'Italia. Stare in una città metropolitana vuol dire avere un peso, un contatto privilegiato e, diretto con la Regione, con lo Stato, con l'Unione Europea, beneficiare di fondi che solo le città metropolitane possono attingere, organizzare il territorio in modo tale da aumentarne la produttività e la mobilità. Lo dice il sindaco di Catania Enzo Bianco che ieri al Palazzo degli Elefanti ha incontrato i sindaci di Gela e di Piazza Merina, i responsabili del Comitato per lo sviluppo dell'area giolese, il Comitato Pro Referendum Piazza Merina ed il Comitato Liberi Consorzi di Niscemi. Guardi, c'è stato tre referendum a Gela, a Piazza Merina e a Niscemi, in cui hanno partecipato moltissimi cittadini e in cui oltre il 90% della popolazione ha deciso di far parte della città metropolitana di Catania. Questo voto deve essere confermato nei prossimi giorni dal Consiglio Comunale. Se così sarà confermato sarà una grande opportunità per tutti quanti noi. Si tratta di 120.000 cittadini che faranno della città metropolitana di Catania, che già è la settima città metropolitana d'Italia, una delle zone più economicamente, dal punto di vista anche sociale, più dinamiche di tutta Italia. Siamo pronti naturalmente a lavorare insieme. Io ho rassicurato quali sono i vantaggi per le popolazioni che riguardano questo aspetto e ho rassicurato soprattutto sul fatto che sarà riconosciuta ampia autonomia statutaria. La città metropolitana di Catania non vuole inglobare i territori ma fare squadre e valorizzarli. Sarà valorizzata la zona ionica etnea, sarà valorizzata la zona del Calatino, sarà valorizzata la zona urbana e anche la zona sud che va da Piazza Armerina a Gela. Aspettiamo che i consigli comunali decidano e intanto stiamo cominciando a lavorare seriamente, senza differenza di colore politico. Anche il sindaco di Piazza Armerina, Filippo Miroddi, ha espresso la ferma volontà della comunità armerina di volere aderire alla città metropolitana di Catania. Piazza Armerina e i piazzesi hanno determinato già qualche mese orsono, qualche mese fa, perché hanno stabilito di transitare e di cambiare il libero consorzio prima. Adesso la regione dice, essendosi stabilita la città metropolitana di Catania e non il libero consorzio, che di fatto sono esattamente la stessa cosa, perché praticamente i confini della città metropolitana diventano esattamente gli stessi del libero consorzio di Catania, per cui anzi le competenze aumentano nella città metropolitana, che come ricordo passerebbero al sesto posto della nazione italiana come territorio, la città di Catania. Il coordinatore del Comitato per lo sviluppo dell'area giolese, Filippo Franzone, si è soffermato sull'appartenenza dei tre comuni alla Sicilia orientale e dei legami che hanno queste comunità, dei vantaggi che sia l'intera città metropolitana di Catania che le tre comunità hanno nello stare insieme, dall'agricoltura al turismo, dall'industria allo sbocco a mare nel canale di Sicilia. Gelani, Scemi e Piazza Merina trarranno vantaggi reciproci nello stare insieme e nello stesso ente. Inoltre ha citato le iniziative condotte dal Comitato in questi giorni in città, dal volantinaggio tra i cittadini alle locandine e nei negozi, trovando la totalità della popolazione favorevole a questo storico passaggio, già siglato da 24.000 cittadini attraverso il referendum del 13 luglio del 2014.